Che bello poter respirare liberamente! E per farlo dovete ringraziare senza dubbi i polmoni, ma tenete presente che la respirazione, processo già di per sé molto complesso, non serve a niente se non è supportata da un sistema cardiocircolatorio perfettamente funzionante e tutto il resto dell'organismo, ma per ora concentriamoci su questo. Non a caso il polmone possiede non uno, ma ben due circoli sanguigni. Il primo, quello nutritivo, porta sangue ricco di ossigeno a tutti i tessuti del polmone per mantenerli vitali ed è una branca della grande circolazione, ovvero quella che porta il sangue anche a tutto il resto dell'organismo. Il secondo circolo, detto invece piccola circolazione o funzionale, trasporta verso i polmoni sangue privo di ossigeno in modo che, passando attraverso gli alveoli, possa ossigenarsi ed essere usato per nutrire il corpo. Affinché funzioni regolarmente deve essere un sistema completamente pervio e libero di ostacoli, altrimenti si sfocia nella cosiddetta embolia polmonare. Si ha tale condizione quando un corpo estraneo si localizza a livello delle diramazioni delle arterie pormonali, bloccando quindi il flusso di sangue a valle. Tali corpi possono avere natura diversa in relazione alla causa. I più frequenti sono emboli trombotici, ovvero masse di sangue coagulato che si formano a livello degli arti inferiori sotto forma di trombosi venosa profonda e che, in seguito a movimenti bruschi o variazioni pressorie, ad esempio quando ci si mette in piedi, si staccano e risalgono lungo la vena porta verso il cuore, per poi finire nella piccola circolazione. Non a caso, buona parte dei casi di embolia si manifestano dopo che si è stati seduti per diverse ore, ad esempio per un viaggio aereo. La posizione seduta può causare, in soggetti predisposti, la formazione di coaguli di sangue nelle vene degli arti inferiori che, nel momento in cui ci si alza e si cammina, possono staccarsi e risalire il sistema venoso fino a raggiungere i polmoni. Altre cause meno comuni sono gli emboli neoplastici, che si formano quando una malattia tumorale imbane le vene del tessuto di origine e qui si possono staccare a massi di cellule, e l'embolia gassosa, che colpisce sommossatori che non rispettano i tempi di decompressione. In questo caso, l'azoto presente nelle bombole che si è progressivamente accumulato nei tessuti a causa della sua elevata perfusibilità, e in immersione rimane confinato per l'alta pressione, nel momento in cui si risale, viene liberato formando delle microbolle che possono struire diffusamente i capillari. Indipendentemente dalla causa, gli effetti finali sono sempre gli stessi e dipendono in larga misura dalle dimensioni dell'embolo, le quali determinano il grado di ostruzione. La forma più grave è definita la grande embolia polmonare, che da sola rappresenta il 10% delle morte post-operatorie, e si ha quando un embolo di grosse dimensioni, nell'ordine dei centimetri, blocca contemporaneamente l'arteria polmonare a sinistra e a destra, in quanto si posiziona a sella sulla biforcazione. Potete immaginare come questa sia una situazione che non lascia scampo, in quanto si ha un arresto quasi totale del flusso sanguigno al polmone, rendendo impossibile l'ossigenazione e portando a morte in pochi minuti per edema polmonare acuto, con nessun margine di trattamento. Meno estesa ma altrettanto drammatica è l'embolia polmonare media. In questo caso, l'occlusione interessa solo una delle due arterie, per cui l'altro polmone viene risparmiato. Qui, teoricamente, un soggetto potrebbe sopravvivere, in quanto un solo polmone è sufficiente per la sopravvivenza. Tuttavia, siccome viene escluso una parte sostanziale della piccola circolazione, si ha un forte incremento della pressione nelle arterie polmonari rimaste pervie, che, non avendo dove andare, si scarica sul cuore e quindi sul sistema venoso, causando fenomeni di stasi venosa come l'ipertensione portale, che, quando si manifesta in soggetti con pregressi problemi cardiocircolatori, quindi ad esempio soggetti in scompenso, hanno comunque un esito fatale anche nell'arco di poche ore. Molto meno drammatica è la piccola embolia polmonare, quando il trombo ha una dimensione di pochi millimetri e quindi va a bloccare limitate zone del polmone più periferiche. L'esito dipende però dallo stato di salute di base. In soggetti giovani con polmoni sani si ha l'attivazione di circoli collaterali che mantengono perfuso il polmone fino a quando il trombo non si dissolve, non lasciando alcun residuo, mentre in soggetti con un certo grado di stasi polmonare, ad esempio da fibrosi o insufficienza cardiaca, questi circoli collaterali non funzionano e si ha la morte della porzione di polmone interessata, che andrà incontro in necrosi e, col tempo, fenomeni fibrotici riparativi. Il soggetto però spesso riesce a sopravvivere e a volte neanche si accorge di tale fenomeno e, non a caso, nei soggetti anziani è frequente riscontro accidentale di aree di polmoni fibrotiche derivate da embolie pregresse. Comunque, in tutti i casi di embolia la sintomatologia di base è la stessa, sebbene con intensità variabile ed è riconducibile all'ipossia, quindi respiro affannoso, possibile cianosi, tachicardia e agitazione, con possibile dolore acuto localizzato al torace legato all'ischemia polmonare, che spesso può essere scambiata per dolore infartuale. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo di vostro gradimento, in caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale così so di stare facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram e, se vi piacciono i nostri design, potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!